Ciao ragazzi, è dunque stagione finita per Douglas Costa. Tante volte mi avete sentito dire in questo canale che è un giocatore che non mi convinceva, non tanto perché non ha capacità, credo che sia uno dei giocatori più forti su pianeta Douglas Costa tecnicamente, ma quanto lo reputo scarso, ma veramente scarso a livello fisico, perché poi dopo discutiamo sugli altri insomma, ma molto scarso sul discorso fisico. E' anche un po' scarso sul livello psicologico, nel senso che a volte fa degli errori anche in campo di poca lucidità proprio di testa in certi momenti della partita. Che dire, è un giocatore che purtroppo ha voluto puntare su di lui e ha sbagliato, non tanto sbagliato averlo in rosa perché secondo me è sempre stato un ottimo spacca partite, ma quando parlo di puntare su di lui parlo di qualcuno che tipo Mr. Sarri che quest'anno ha detto di volerci puntare su di lui anche come titolare. E' evidente che Costa non possa mai fare il titolare in una grande squadra, per due motivi. Uno perché, come ho detto prima, è troppo fragile. Due, perché è sempre stato un giocatore da partita in corso. Tutte le volte che ha iniziato dall'inizio ha fallito miseramente. E quindi niente ragazzi, è un peccato. Io poi vedo anche gente giustamente tirare giù bombe su De Scilio e su Kedira, che sono due giocatori che sinceramente a me spiace. Però la differenza tra loro due e Dagrash Costa è che quando loro due sono integri, la differenza l'hanno sempre fatta. Poi De Scilio su De Scilio io sono uno dei pochi a difenderlo, me ne rendo conto, ma io ho sempre avuto la mia idea su De Scilio. De Scilio è sempre stato per me un buonissimo terzino, non un fenomeno, ma il suo che aveva sempre fatto il compitino. Che dire invece secondo me? E' un fenomeno, purtroppo fisicamente è arrivato alla frutta, ma ci arriva alla frutta a 35 anni. Dagrash Costa a 28 anni sembra che abbia il fisico di uno che ne abbia molti di più. Ecco, io credo che Dagrash Costa sia da vendere il prima possibile. Cioè se trovi un'offerta un po' decente devi darlo via, perché adesso va bene tutto. Come io credo che si rescinderà con Chedira, non credo che si piazzerà De Scilio, perché non credo che ci sia la possibilità di piazzarlo, ma Dagrash Costa ragazzi va dato via, perché oggettivamente abbiamo superato il limite della decenza. Quindi il giocatore che adesso non riesce più neanche a incidere neanche più a partita in corso, è il giocatore che come ho detto prima sta fermo, gioca una partita e poi sta fermo per sei mesi. Quindi assolutamente non affidabile. Ragazzi io vi saluto, vi do appuntamento col prossimo video e speriamo bene. Ciao!